Buongiorno e ben svegliati, ben rispettati. Siamo ritrovati soprattutto con Mattino 6, la nostra rassegna stampa in questo sabato 17 marzo, come di consueto spazio alle prime pagine nella prima parte e poi nella seconda parte ovviamente entreremo all'interno dei quotidiani di casa nostra per vedere le principali notizie che arrivano soprattutto dall'Abruzzo. Partiamo come di consueto con le testate regionali, con le prime pagine, con le quattro edizioni, quelle delle quattro province del quotidiano Il Centro. Che vediamo l'apertura dell'edizione di Pescara riguarda Corso Vittorio che chiude per sette giorni da lunedì i lavori sulla condotta dell'ACA, poi la riapertura a doppio senso. In alto, sotto la testata, questioni non di carattere propriamente abruzzese, più di carattere nazionale perché dopo 40 anni Mattarella, il capo dello Stato, ricorda Aldo Moro ed è polemica sugli ex brigatisti in TV. Dall'altra parte, il calcio internazionale, i sorteggi della Champions, sarà una sfida Italia-Spagna, la Juve ritrova il Real Madrid, la Roma pesca il Barcellona. Scendiamo sempre nell'edizione pescarese perché la fotonotizia è dedicata a Viale Muzzi che è un cantiere, i negozianti, affari a picco, scenderemo in strada, la protesta per i lavori della ciclabile. Vediamo di spalla nelle cronache perché oggi l'addio ad Alessandro Neri a Villa Raspa, ovviamente si torna sull'omicidio di Pescara che è ancora irrisolto, ovviamente gli inquirenti continuano a scandaliare ogni pista. Il caso a Pescara, fanno violenza su una ragazza ma niente carcere, poi ovviamente ci entreremo e leggeremo meglio di che cosa si tratta. Sotto la fotonotizia, il bonus per la prima casa, c'è la guida, tutti i sconti previsti per il 2018 dall'imposta di registro all'IVA per la politica. E siamo a Francavilla, dunque, lite con il Partito Democratico e il sindaco Luciani si autosospende. Altre notizie, l'intervista a Mario Corso, ospite ad Alanno, il mio calcio, quanti ricordi. Questa è la prima pagina del centro edizione di Pescara. Cambiamo provincia, andiamo su quella di Chieti. Ovviamente cambia il titolo, ma riguarda sempre la viabilità. Passi carrabbi per i 4.000 sono abusivi. Chieti caccia gli evasori per recuperare una somma che si aggira intorno ai 200.000 euro l'anno. La fotonotizia dedicata a un personaggio, una vita in bici con Coppi e Fantini. Cicchino festeggia 100 anni, Castelfrentano. Oggi la manifestazione nel teatro Francesco Paolo Ferrante. la sua Castelfrentano gli rende omaggio a una festa organizzata dall'amministrazione. Nelle cronache, Chieti preso a sassate l'autovelox di Brecciarola. A Lanciano, ride dei vandali in due asili, il bottino. Solamente 50 euro. Abbasto i falsi incidenti con la truffa degli specchietti. Anche qui poi magari entreremo all'interno del quotidiano per capirne un po' meglio. Cambiamo e andiamo all'edizione di Teramo. Anche qui cambia l'apertura ma dedicata alle prossime elezioni comunali. Le parole di Renzo Di Sabatino. Unirò il centrosinistra. Teramo al voto. Il candidato del PD prova a formare una coalizione. La fotonotizia, che peraltro è un servizio che vi abbiamo mostrato anche ieri, Teatro Romano, via la campagna per il referendum cittadino, inizia la raccolta delle firme. Nelle cronache, droga da Napoli, indagate 44 persone. Per la scuola, siamo sempre a terra, la scuola non è lucidi. Lavori post-sisma, il GIP dice no all'archiviazione. A Roseto, invece, Villa Comunale, slitta ancora la riapertura. Chiudiamo le quattro edizioni con quella aquilana. Case a metà prezzo, effetto sisma, questa è l'apertura del centro edizione aquilana. L'Aquila, valutazione in calo anche del 50% in centro storico. La fotonotizia, dall'Aquila in Valsusa, 10 atleti speciali inseguono un sogno. Giochi nazionali invernali all'insegna dell'inclusione. Ci saranno anche 10 atleti aquilani ai giochi nazionali invernali special Olympics che si terranno dal 19 al 24 marzo a Bardonecchia, Valsusa. E dunque in bocca al lupo a questi ragazzi. Nelle cronache ha scoppito farmaci scaduti nella residenza per gli anziani. All'Aquila, Palazzo Centi, dal Tar il Via Libera al Cantiere. E ad Avezzano, operaio morto nella cartiera, ci sono due indagati per la morte. Cambiamo quotidiano adesso. Vedete la prima pagina del messaggero, la cui apertura è dedicata all'omicidio di Pescara. Ale si cerca un cugino all'estero. Gaetano Lamaletto è partito il giorno prima dell'omicidio. Per gli investigatori potrebbe essere a conoscenza di qualcosa che riguarda il delitto. Oggi, come abbiamo detto, ci sarà il funerale in alto sotto la testata. Altre notizie. Case Popolare a Giulianova si sperimenta il condominio solidale. A Pescara, Corso Vittorio chiuso al traffico per consentire di aprire il cantiere. A Pescara, violenza sessuale in discoteca. Arresti in casa per due ragazzi. La vicenda nella notte di San Valentino, una giovane picchiata e palpeggiata, botte anche alla sorella che era corsa in suo aiuto. Ora il blitz della polizia. Di spalla per l'economia, l'industria farmaceutica traina l'export regionale. Leggiamo rapidamente. Il settore sorpassa il polo dell'automotive con numeri strabilianti. Altre notizie scendendo in pagina. Rimaniamo a Giulianova perché Giuseppe Santoleri, si legge, ha tentato il suicidio. Poi ovviamente approfondiremo la questione. La fotonotizia ok al sistema di depurazione delle acque presentato in regione. Il sistema integrato che potrebbe eliminare definitivamente il problema dei divieti di balneazione durante l'estate. Per la politica, ma in realtà la politica c'entra relativamente, sono più che altro gli stipendi dei parlamentari. Melilla, il più ricco di Quagliariello, invece il reddito più basso. Dichiarazioni pubblicate da Camera e Senato in molti superano i 100.000 euro all'anno. E poi all'interno ovviamente tutte le cifre. Andiamo in provincia di Teramo con il quotidiano La Città. Eccolo qua, la prima pagina, il primo contributo per sisma e neve. Dall'ufficio ricostruzione, oltre 4 milioni di euro alla Sicurmax di Montorio, distrutta un anno fa. Ancora nella prima pagina, Teramo al voto 1. Quagliariello con Di Dalmazio giocheremmo da favoriti. E ha sempre sul voto a Teramo, ipotesi morra come sintesi di candidatura alternativa. Altre notizie, controlli antidroga al Cerulli, squadre cinofile tra i banchi dell'Istituto Superiore Giuliese. Altra notizia di politica, Atri, altro comune che andrà al voto, concetti favorito tra i grillini. E poi in Serie C, la coppia Bacio-Terracino-Ilaria-Forterischio per la sfida di domani contro l'Albinolef. Queste le prime pagine delle testate regionali. Andiamo sui quotidiani nazionali, anche qui con le prime pagine, partendo dal Corriere della Sera. I timori europei per l'Italia. Il leghista Giorgetti, un governo con il Movimento 5 Stelle, sarebbe solamente per tornare al voto. Dopo le urne Macron e Merkel, scossa alla UE. Sondaggio, il 42% sarebbe per dare l'incarico a Di Maio. Altra notizia, la fotonotizia, murale per la libertà di Zera. La sfida di Bansky a Erdogan denuncia l'opera a Manhattan dedicata all'artista kurda Incella da oltre due anni. Cambiamo quotidiano, andiamo sulla Repubblica, l'apertura è un'ampia parte della prima pagina dedicata proprio alla politica. Sondaggio, governo, Movimento 5 Stelle, Lega o meglio tornare subito al voto. Populisti ancora su, crolla Forza Italia, sale Gentiloni, Macron e Merkel, elezioni Italia, scossa alla UE. E vediamo anche il gradimento sulle possibili alleanze riassunto proprio nello specchietto. E come vedete una maggioranza tra Movimento 5 Stelle e Lega oppure tornare subito al voto sono le opzioni più votate di fatto dagli italiani. Poi c'è ovviamente la vignetta di Altan che riassume ironicamente la situazione italiana. Altre notizie in basso, l'inchiesta furti, record di impunità, finiscono in trappola solo tre colpevoli su cento. E in basso a Firenze, guai in famiglia per Renzi, indagine sui genitori con l'ipotesi di false fatture. Il fatto quotidiano, l'apertura. Il PD, democrazia diretta, gli iscritti decidano l'alleanza. Martina cita l'SPD che ha consultato la base sul patto con la Merkel. A centro pagina, Mino Raiola e il fisco, la finanza prende i contratti del Milan. Calcio e affari su input delle autorità olandesi, si muove anche la nostra guardia di finanza. Altre notizie, fusione con Anas, la D delle ferrovie dello Stato ammette un buco di 2 miliardi. In una lettera a Piercarlo Padoan. E poi altre notizie. Da Viafani, Moro fu portato subito nel covo negato all'ombra di Yor e Company. Revisionismi, a Cassino, la destra inaugura una stele per i paracadutisti nazisti del 1944. Libero, andiamo su quotidiani di ispirazione di centro-destra. Il buono, il brutto e il cattivo. Ovviamente mutuando un film famosissimo, un film western famosissimo. Gli uomini del giorno dopo. Cottarelli, candidato da più parti a fare il premier. Dategli le forbici, lui sa tagliare benissimo. Brunetta, un gattino arrabbiato che ignora di aver perso e se la prende con Salvini. Ingroia, un ex PM puro che quando ha mollato la toga ha trovato uno più puro che lo epura. Questa è l'apertura di Libero. Altre notizie in basso. L'Inps taglia le pensioni ai vecchi ed elargisce ferie agli ex statali. L'ente chiuderà con un rosso di 7 miliardi e mezzo. Nave ONG ci scarica 218 clandestini e l'Italia cala ancora le brache. Passate le elezioni, ritornano gli sbarchi. Il messaggero, edizione nazionale, ovviamente. L'apertura, si riapre il fronte migranti, timore europei per l'Italia. Allerta del Viminale. Il sistema accoglienza, rischio collasso, servono risorse. Merkel e Macron scossi dal voto italiano. Ora rifare l'Unione Europea e c'è un vertice sugli sbarchi. Per la politica, come vedete, di spalla le presidenze, l'altolà di Forza Italia, la Lega, tocca a noi il Senato. Sarà anche questo il primo banco di prova per il nuovo Parlamento. A Roma, in seguimento, un carabiniere spara e colpisce due passanti. Madre e figlia erano a bordo di uno scooter. Non sono gravi. Il vivente è fuggito. E poi questa foto, davvero emblematica, davvero incredibile. Il bimbo nella valigia, il dolore della Siria, dai morti sulla spiaggia di Bodrum, la fuga da Gauta a sette anni di guerra. In basso, il ministro inglese Johnson accusa Putin, spia russe, il gas nervino, era nel profumo della figlia. Andiamo avanti. Il mattino, ci spostiamo a Napoli, l'Italia preoccupa l'Europa, Macron e Merkel, estremismi imposti dal voto per gli errori su crisi e migranti. Il giallo internazionale, spie, trovato il veleno. Londra accusa Putin, gas nervino nella valigia di Giulia. E poi una notizia che riguarda Napoli, crollo nel convento, terrore e feriti. Il caso salvati dalle macerie cinque operai. Un boato, poi l'inferno. Due pilastri del chiostro di San Paolo Maggiore cedono durante i lavori di ristrutturazione. E il sovrintendente, le verifiche spettavano alle ditte. Il sole 24 ore, quotidiano economico, Merkel-Macron, voto italiano uno scossone per l'Europa. L'annuncio, entro giugno, la roadmap per formare l'Unione Europea, ostacoli da appianare su unione bancaria, a fiscalità d'impresa, da armonizzare. Aree di crisi, il bilancio delude, tentano le riconversioni. Va rivisto il sistema accordi, governo, regioni. E poi banche, la sfida USA, Unione Europea sulle regole. L'impatto sulla crescita, con più requisiti, frenano i rischi. Il PIL, ricette opposte di BCE e Fed, sulla normativa prudenziale. Cambiamo quotidiano, andiamo sulla verità. I genitori di Renzi interrogati a Firenze. Non c'è solo l'indagine su Consi. Pacella era rinchiesta per false fatture svelata dalla verità. Tiziano e Laura, convocati due giorni fa, hanno tenuto di spostare il confronto che cadrà nel pieno delle trattative sui due presidenti delle Camere. Ricordiamo la prima seduta il prossimo 23 marzo. venerdì prossimo sarà la prima seduta delle nuove Camere, elette il 4 marzo. La fotonotizia fa la bella vita con i soldi pubblici. All'ex PM Ingroia ha sequestrati i conti. E poi altre notizie. Miniti e lo 007 siriano. L'incontro è un caso. Il capo dei servizi di Assad portato in aereo in Italia. L'interrogazione imbarazza la Mogherini. Altre questioni. Fuori con condanne a quattro anni. Sì, del governo al Salvaladri di Orlando. Salvini giura l'aboliremo. E il Vaticano si fa del male. La lettera di Ratzinger mutilata per Viganò è un'opera d'arte. Il manifesto, altro titolo semplicemente geniale, dalle stelle allo stallo. Ovviamente con la foto di Luigi Di Maio perché il dialogo, leggiamo, non è semplice. Il leader dei 5 Stelle, Di Maio, ammette l'unpass per un accordo sulle presidenze di Camera e Senato. Cerca una difficile via d'uscita, mentre Forza Italia attacca Salvini. È leader solo della Lega. A Parigi, vertice tra Merkel e Macron, il voto italiano ha scosso la UE. Si prepara una stretta sui migranti. Ovviamente, come vedete, la foto occupa gran parte della prima pagina, ma leggiamo anche altro. La politica internazionale arriva a Johnson. È stato Putin, il caso Skripal, Londra accusa il presidente russo. Mosca reagisce, è indecente e di spalla, vedete, l'analisi di Tommaso Di Francesco. Proprio sulla questione internazionale che definisce peggio della guerra fredda. La stampa, Macron, Europa scossa dall'Italia, fondo al vertice con la Merkel, timori di Forza Italia sulla Lega, troppa spregiudicatezza. Di Maio apre al PD, tuteleremo le opposizioni. Il piano di Renzi per evitare le elezioni, far dimettere subito Gentiloni. Questa sarebbe la strategia. E poi la fotonotizia. L'orto infinito di Leopardi torna a splendere, restaurato dall'architetto paesaggista Paolo Peirone. E ora bisognerà pagare un biglietto, l'orto delle monache di Re Canati, nelle marche, che ha ispirato l'infinito, bellissima, di Giacomo Leopardi. Il tempo, rimborsi e hotel di lusso. Che fine l'eroe ingroia, caduta dei miti, sequestrati 150 mila euro all'ex PM, icona antimafia. Si indaga sulla società Sicilia e servizi, lui tutto in regola, chiarirò di spalla. Massoneria flop, verdini assolto dal circo della P3, la sentenza. Altre notizie. Diario dalla Capitale a Roma, vietato pregare, chiese chiuse per la burocrazia. E poi il fatto di cronaca che vi abbiamo detto. Militare spara ferite madre e figlia. Auto non si ferma all'alt, carabiniere reagisce e centra per sbaglio. Due passanti. In basso, ovviamente, richiamo per le Romane, che hanno visto i rispettivi sorteggi. Sorteggio agrodolce per le Romane. La corazzata Barsa per la Roma in Champions League. Va meglio alla Lazio con il Salisburgo, ma in Europa League. Il giornale, razzista, ladro e puzzone, così grillo su Salvini. Altro che prove d'intesa, tutti gli insulti del Movimento 5 Stelle alla Lega. Nel vuoto, il governo Vara, il salva criminali. Vengono definite queste cose botte da orbi. E poi la sorpresa, il ministro Fedeli, la più ricca di tutto il governo. Se scendiamo, la politica internazionale ha fatto uccidere la spia. Ora Londra accusa Putin e tensione altissima tra la Russia e il Regno Unito. Il secolo d'Italia, quotidiano che fa riferimento a Fratelli d'Italia, una garanzia per tutti. Matteo Salvini, avanzi la sua candidatura come presidente del Senato, se rifiuta e se la partita delle presidenze è svincolata da quella per il nuovo governo, allora Fratelli d'Italia avanzerebbe. Giorgia Meloni. Altre notizie. L'ex BR del caso Moro in TV è ospiti VIP dei centri sociali. Arriva lo svuota carcere, sdegno del centrodestra, riforma del sistema penitenziario. E poi ipocrisia anti Isoardi. La Renzi disse le stesse cose. Elisa Isoardi, compagna di Matteo Salvini, le cui dichiarazioni hanno fatto un po' discutere, dicendo che si sarebbe tirata un po', avrebbe fatto un passo indietro rispetto al compagno, leader della Lega. L'avvenire carceri si cambia, il governo attua la delega sulle pene alternative, ma non del tutto. Centrodestra e Movimento 5 Stelle contrari, fino a quattro anni fa fuori dalla cella. I mafiosi esclusi. Orlando si punta ad abbattere la recidiva. Salvini, se sarò premier, cancellerò tutto questo. E poi altre notizie. Ha salvato i migranti, non poteva attraccare, dopo un braccio di ferro, la nave Open Arms a Pozzallo. Guerra fredda, Putin dietro l'agguato, Alex Spia. E c'è l'ira di Mosca. Questi i quotidiani generalisti. Adesso andiamo sui quotidiani sportivi. Come vedete, prima pagina della Gazzetta dello Sport, perché l'apertura, ovviamente, con le due foto molto grandi, di Leo Messi da una parte, Cristiano Ronaldo dall'altra, con il titolo emblematico, arrivano non i nostri, ma i mostri. Ma noi non abbiamo paura. La Roma contro il Barcellona di Messi. Poi Totti chiama, lo hanno beccato anche le telecamere. Il Real Madrid per la Juventus e Cia Zecca. Ronaldo, quindi affronterà Ronaldo. Di bala, siamo pronti, Europa League, la Lazio trova il Salisburgo un impegno non impossibile per gli uomini di Simone Inzaghi. In alto, queste sono partite che si giocheranno tra l'andata tra il 3 e il 4 aprile. Andiamo un po' più nell'attuale, perché invece oggi si corre la Milano-Sanremo. E allora, Gran Casino-Sanremo, Bruce Lee Sagan è una sfida mondiale. Quanti assi sul tavolo della classica di primavera? Vediamo i quattro assi. Ovviamente c'è Vincenzo Nibali, c'è il nostro Vincenzo Nibali, c'è il nostro Elia Viviani per un'eventuale volata. Ovviamente c'è il tre volte campione del mondo Peter Sagan, ma c'è anche il vincitore della passata edizione e della terreno adriatico, il polacco Mikhail Kwiatkowski. Scendiamo in basso il calcio Milan avanti con Gattuso, ha dimostrato tutto così la società promuove il tecnico. Entro fine mese sarà definito il rinnovo per aprire un ciclo. Balotelli nazionale, ancora un no, Spiraglio Zazza, si scalda Cutrone. Corriere dello Sport, Juve, ce la fai, queste le parole di Carlo Ancelotti. Quarti durissimi, ma per Ancelotti la qualificazione rimane aperta. Real di Ferro, ma Max sa come si deve muovere per vendicare il K.O. subito nella finale dell'anno scorso a Cardiff. Altre notizie sempre di Sport. Febbre Roma, caccia il biglietto per le sfide con Messi. Lazio in Europa League, pesca il Salisburgo. Oggi inizia la MotoGP. Ieri sono state le prove libere, questo pomeriggio ci saranno le prove. Oggi la prima pole, Fulmine Dovizioso, MotoGP al via. Dominio Ducati nelle libere, Rossi insegue domani il Gran Premio. Calcio, Sarri scalda i tre tenori. Ovviamente siamo in casa Napoli, obiettivo 100 punti. Milan, Gattuso invece firmerà fino al 2020. Oggi ci sono gli anticipi. Allegri a Ferrara cerca un altro record. e chiudiamo con Tutto Sport perché questo è il titolo e la più bella. Il sorteggio di Nyon mette di fronte le finaliste dell'ultima edizione e sarà, come vedete, una sfida tra le altre, tra le tante che ci saranno, tra Iguain e Cristiano Ronaldo. Torino, missione e rilancio. I tifosi chiedono una svolta. Milan, l'ora della verità. Gattuso 2020, la prima mossa. Inter, Pride sotto esame. Le contropartite per l'ok della Samp. Ciclismo Milano-Sanremo. Trentin dice. Viviani e io gli anti-Sagan. E poi per la moto. Dovizioso e non solo. In Qatar volano, ed è una bella notizia per noi italiani, le Super Ducati. Ci fermiamo adesso, le previsioni del tempo, la pubblicità, e poi rientriamo per vedere i quotidiani di casa nostra. Tra un po'. Seconda parte di Mattino 6, ben ritrovati. Siamo pronti per entrare all'interno dei nostri quotidiani. Ripartiamo dunque con il centro, con il nodo delle regionali, perché, insomma, tra un po' si andrà al voto anche nella nostra regione. Allora, per la politica, questo è il titolo d'apertura. Nessun rimpasto, ora si vada al voto. Sono le parole di D'Ignazio e Paolini, che respingono le ipotesi di cambi di giunta. Ed Alfonso scherza sulle dimissioni. Io mi immetto, ha detto ieri a margine di una conferenza stampa, di spalla, trivelle, di fida delle associazioni, no alle proroghe. In basso, per la depurazione, sbloccati 117 milioni di euro, il governatore e il direttore dell'Ersi di Biase firmano le intese che danno il via libera a 35 interventi. A centro pagina, l'appello del commissario, le comunità montane, altri due anni senza risorse. Paolo Federico, non riusciamo a pagare le spese di gestione e i servizi essenziali per i cittadini. Andiamo sulla pagina di Pescara, dunque entriamo nelle città perché cominciamo subito con i negozianti di Viale Muzzi che vedono i loro affari crollati per i lavori. Il cantiere per la pista ciclabile evidentemente sta creando disagi ai negozianti. Parcheggi impossibili e vendite impicchiata. Scoppia la protesta in centro. Se perderemo altri clienti scenderemo in strada con gli ombrelloni e la sdraio, dicono i commercianti. Queste sono alcune foto del cantiere di Viale Muzzi. Il delitto neri. La criminalità locale dietro l'omicidio di Alessandro. Nuova pista per i carabinieri. Interrogatorio a tappeto. Sotto Torchio c'è un amico. Per le modalità e il luogo del ritrovamento prende corpo l'ipotesi di un killer che ha ucciso il 28enne e conosceva bene la zona a ridosso di Vallelunga. In basso c'è una testimonianza. Il padre di Domenico Rigante che dice Sto rivivendo quei giorni. Il padre di Domenico ucciso nel 2012. Troppe armi in giro. So come si sentono i genitori di Alessandro. Cronaca ancora. Rimanendo a Pescara. Pagina 15. Violentano una ragazza ma niente carcere. Ai domiciliari due cugini con altre tre giovani ancora da identificare hanno palpeggiato e picchiato una ventunenne all'interno di una discoteca. A Pescara vecchia. Altra cronaca. Rapinato insegue i tre aggressori e li fa arrestare. Sempre a Pescara Corso Vittorio chiude per una settimana dal 19 al 24 marzo. Transito bloccato per una grave perdita sulla condotta dell'ACA. Poi la strada riaprirà a doppio senso. E sul ponte del mare lavori fino al 21 maggio. Stop a bici e pedoni ogni giorno dalle 7.30 alle 17.30 proprio per permettere i lavori. Maxi multa sempre a Pescara al condominio per i bidoncini in strada. Sentenza del Tribunale condanna 12 famiglie di un palazzo di via Monti della Laga. Il giudice sono tante e rappresentano una molestia per un'abitazione vicina. cambiamo pagina pedalata con la Fidas per il sangue. Domani in piazza Troilo il terzo raduno del campionato di cicloturismo per promuovere proprio la donazione di sangue. Andiamo a pagina 20. Naia di acqua fredda e piscine chiuse. Guasto già risolto. La rabbia delle famiglie. Nessuno ci ha avvisato. Pronta la replica dell'amministratore Vincenzo. Serraiocco. Andiamo sulle pagine di Pescara ma sul quotidiano Il Messaggero. Vediamo l'apertura dedicata ovviamente ad Alessandro Neri. Il mistero del cugino all'estero. Gaetano Lamaletto Junior sarebbe andato in America il giorno prima della scomparsa del ragazzo poi ucciso. I carabinieri lo cercano per sentirlo e finora negano contatti da accertare un suo eventuale coinvolgimento nella vicenda. Oggi il funerale ci sarà ma senza il feretro. Alle 15.30 a Spoltore la famiglia, gli amici e la comunità italo-venezuelana si ritroveranno uniti in canti e preghiere. In basso, cani senza guinzaglio, paura in spiaggia per una donna uccisa. La polizia municipale multa i proprietari degli animali. L'assessore Teodoro, verbale in aumento da inizio anno. Cronaca, ritroviamo questa notizia. Sorelle palpeggiate e picchiate in discoteca, due arresti. L'aggressione è avvenuta il 14 febbraio scorso al Megà. Indagini della squadra mobile, due cugini ai domiciliari. A centro pagina, Corso Vittorio chiude e fa dirottare i bus Ponte del Mare. Lavori, come abbiamo detto, fino al 21 maggio prossimo. Sempre a Pescara, le uova dell'Ail tornano nelle piazze. Si avvicina la Pasqua. Allora i volontari della sezione Pescara-Teramo in prima linea. Fino a domani, nella campagna contro le ocemie e mielomi, il presidente Cappuccilli rivolge un appello ai pescaresi affinché sostengano la nostra associazione e la ricerca. Andiamo avanti, ZTL cancellata su Via Roma, Montesilvano e cittadini contro i politici. E poi la tolleranza zero, droga a minori albanese, sempre a Montesilvano, dai domiciliari finisce in carcere. E in basso, Luciani lascia i poteri alla vicebuttare. Pausa di riflessione e un attacco ai suoi da parte del primo cittadino di Francavilla al mare. Come vedete qui cambiamo provincia, allora torniamo, prima di cambiarla anche con il centro, torniamo proprio sul quotidiano. Il centro con Montesilvano, di Pasquale non si dimette, intervenga il prefetto in Consiglio Comunale. I consiglieri di minoranza chiedono da un anno che il presidente della Sise lasci l'Assemblea Civica, però non si decide a mettere in discussione la mozione. Altra notizia, Orsini ZTL inutile, giusto riaprire alle auto Via Roma e Piazza Diaz. Per l'educazione ambientale, scuola ha chiuso l'esperimento dei viaggi virtuali nel riciclo. A Montesilvano spaccia i domiciliari, finisce in carcere, il trentenne è stato individuato, seguendo i tossicodipendenti della zona di Penne. In alto evade a ripetizione, un quarantenne finisce in cella, sempre a Montesilvano. Aspoltore, tasse e tariffe invariate per il terzo anno consecutivo. Bufera nel PD, siamo a Francavilla, Luciani si autosospende, il sindaco vuole prendersi una pausa di riflessione e attacca. Siamo tornati all'epoca dei se, dei ma e dei, però il comune passa nelle mani del vice sindaco. Siamo nell'area Vestina, Penne, Valtavo, Popoli, Pescara, qui siamo proprio a Popoli, sicurezza del fiume e delle case, i lavori ripartono dopo un anno, lo sblocco al tar del finanziamento regionale per circa un milione rilancia il progetto di risistemazione idraulica. Popoli ha una grande necessità di difendersi dai fenomeni alluvionali, la soddisfazione che arriva dall'assessore Santoro. Carpineto della Nora, strade piene di buche, lavoratori multati, dossier del sindaco Rosini al prefetto, non si può fare, cassa solo con gli autovelox. Andiamo a Chieti adesso, multe a Brecciarola, preso a Sassate e l'autovelox contestato. Il comune annuncia che da lunedì ripartono i controlli e un vandalo spacca la telecamera, e ora è caccia ovviamente all'autore di questo gesto. Cronaca in auto con la droga, cocaina nascosta nei genitali, una donna finisce in carcere. Cerimonia per i carabinieri, giuramento per sei sottotenenti, arriva la promozione per i luogotenenti, l'abbraccio di Siri Marco. Siamo a Lanciano, Raidin, due scuole materne, magro bottino ma tanti danni, finestre rotte negli edifici di Olmo di Riccio e Villa Gaeta, spariti 50 euro. Verna, atti criminali commessi contro i nostri figli, metteremo altre telecamere. Di spalla, vasto, i consigli dei carabinieri, torna la truffa dello specchietto. Attenti, dicono i carabinieri, non pagate. Ad Ortona, strada Groviera, all'uscita dell'A14, proteste per le condizioni della carreggiata davanti al casello e alla stazione ferroviaria. A Tollo leve contro l'Aggiunta, assurdo in bilancio, 150 mila euro di multe. Siamo a Teramo, scuola lucidi, il GIP non archivia l'inchiesta sui lavori post-sisma, respinta alla richiesta della Procura. Il giudice chiede al PM di svolgere una consulenza tecnica sulla natura e gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico dopo il 2009. In basso, droga da scampia, gli indagati sono 44, il blitz con 11 arresti, il giudice a capo dell'associazione, un uomo del clan, camorristico Contini. Verso le comunali, siamo a Teramo, di Sabatino corro se c'è una coalizione. Il candidato sindaco designato dal PD incontra partiti e movimenti civici per provare a ricompattare il centro-sinistra. Sul fronte centro-destra si valuta se scegliere un big oppure un nome nuovo. E ovviamente c'è l'intervista proprio a Renzo di Sabatino. Ma c'è una serie di blackout in città e Brucch ironizza l'ex sindaco. Ora che c'è il commissario, nessuno dice nulla. L'assenza della politica è deleteria. Per il carnevale estivo ad Albadriatica, Marastoni non presenta l'offerta. All'Aquila, morto alla cartiera, ci sono due indagati. Avezzano, atto dovuto della procura per ricostruire la dinamica. Fabbrica chiusa fino a lunedì, cordoglio della federazione ciclistica. E vedete Marco Didonato con, purtroppo, Michele Scarponi, anche lui deceduto. Farmaci scaduti. Siamo all'Aquila, nella casa degli anziani. Anzi, ha scoppito nell'Interland dell'Aquila. Blizzi dei Carabinieri del Nassa, Villa Dorotea. Prelevate due confezioni. Indagato un medico. Palazzo Centi, d'altare il via libera ai lavori. Il pronunciamento dei giudici amministrativi sblocca l'apertura. del cantiere. Siamo qui allo sport e allora continuiamo con il messaggero. Ripartiamo proprio dall'Aquila. Sisma, restituzione delle tasse vertice per evitare la stangata. Ricorso al Tarra e diffida al Governo per gli errori commessi con la UE. Centinaia di ditte potrebbero chiudere per rimborsare le somme arretrate. E come vedete anche qui per i recuperi, Palazzo Centi, giudici amministrativi, danno ragione alla General Costruzioni. In basso case svaliggiate, ci sono degli arresti e delle condanne. BCC, i vertici incontrano i soci aquilani, questo è il titolo. L'istituto ribadisce il ruolo sociale, ha avuto negli ultimi anni fidi e finanziamenti, anche nel pieno della crisi economica. Presidente, liberati, continua ad andare bene la banca. Abbiamo chiuso il 2017 con una crescita, è un utile, di 21 milioni netti. Cambiamo pagina, andiamo ad Avezzano, morte operaio, burgo chiusa per lutto. Il dipendente Marco Di Donato, 43 anni, travolto dal muletto, la procura ha disposto all'autopsia e ha aperto un fascicolo d'inchiesta. Molto probabilmente si è trattato di una fatale distrazione. Il cordoglio della Federciclismo abruzzese per Marco Di Donato, che era un grande ciclo amatore. In basso, a Sulmona, due auto-officine abusive scattano multe e denunce. A Sulmona ritrovati i candelabri di San Panfilo. E poi per la politica, da Avezzano, De Angelis e Di Pangrazio. Doppia assemblea. Acchieti, passi carrai. Caccia i furbi, almeno 4 mila sono gli irregolari. Lotta l'evasione, il Comune attiva una task force per recuperare le tasse. A Brecciarola, ignoti, danneggiano l'autovelox, che tornerà in funzione lunedì. Dunque, dopo domani, in basso, cocaina negli slip, arrestata. E poi, la sentenza, gioielli truffa, nei guai, bellia. A Lanciano, scuole materne, ride dei ladri nella notte. Malintenzionati sono entrati al plesso di Olmo di Riccio, in via Ortone, subito dopo quello della Rodare in via Gaeta. I ignoti hanno messo interamente a soccuare i locali e le aule del plesso, portati via, solamente 50 euro. In basso, progetto a punta penna, ricorso al TAR. Lega ambiente WWF contro l'insediamento della ESCAL, Confindustria, è a favore. A Lanciano, parcometri irregolari. L'ASCOM insorge. A Teramo, frane, che rabbia. Un anno con il paese tagliato in due. Da Ponzano a Castelnuovo di Campli, monta il malumore dei 250 sfollati. Test nazionale per la ricostruzione, ma ora fate presto, dice De Amicis. Di spalla. Falso commercialista, truffa le aziende teramane. Il danno è la beffa e la 65 anni di penne non ha depositato i bilanci delle società e allora arriva anche la finanza. Per la cronaca, sperona l'auto della polizia e fugge a piedi per la droga. E per il teatro romano, ovviamente rimanendo a Teramo, mobilitazione e referendum. Il comitato pronto a pagare le schede per far esprimere i cittadini sul progetto. Siamo a Giulianova con questa notizia. Santoleri tentò veramente il suicidio. Delitto Rapposelli. I legali di padre e figlio ricostruiscono cosa accade dopo il ritrovamento del corpo della pittrice. Simone, vedendo il papà svenuto, disse che cosa è combinato. Troppi medicinali, ma per gli inquirenti fu solamente una simulazione. A Giulianova, a case popolari, approvato il bando, il 15% degli alloggi va agli indigenti. Ho confermato l'attenzione nei confronti delle fasce deboli della popolazione. In basso siamo in vibrata, bancarelle abusive e carabinieri in congedo con i vigili per il controllo del lungomare. E poi a Martinsicuro sono troppe, 217 slot, l'allarme dei ludopatici. Qui, come vedete, entriamo all'interno delle pagine sportive. E allora riprendiamo sulla provincia di Teramo, andando sul quotidiano, la città. La ricostruzione alla Sicurmax, il primo contributo sisma e neve, la ditta di Montorio, simbolo delle calamità. Dopo un anno ha ottenuto 4 milioni e 100 milioni di euro dall'URSC. C, in basso, per la giudiziaria, nessuna associazione a delinquere per acquisire Tercas e Cari, per il GIP di Bari archivia l'inchiesta sui vertici della Banca Popolare di Bari, per l'acquisizione degli istituti abruzzesi. Politica, con Di Dalmazio giocheremmo da favoriti, il senatore Quagliariello in città per lanciare il progetto civico IDEA per Teramo ed evidentemente lanciare Mauro Di Dalmazio come candidato sindaco del centrodestra. Ma c'è un'ipotesi morra come candidatura alternativa. Il leader di Fratelli d'Italia dichiara di non aver ricevuto proposte, ma lancia le primarie del centrodestra. E di spalla, per il rimpasto, Giorgione rifiuta la vicepresidenza della regione, ovviamente Giorgione e Giorgio D'Ignazio. Per i rifiuti, l'isola ecologica è ancora al suo posto. Dopo i controlli e le esalzioni, i bidoni tornano in largo San Matteo. In basso, per il Partito Democratico, le parole di Tommaso Ginobbe, imbarazzante che il rapino non si sia dimesso. L'ex onorevole Rosetano interviene alla direzione regionale. Cambiamo pagina, pagina 8. Le tipicità del territorio protagonista in centro. Torna a Teramo. L'appuntamento con la Fiera di San Giuseppe è organizzata dalla FIVA Confcommercio. Un referendum per spazzare 30 anni di opacità. Il comitato, ovviamente parliamo del teatro romano, si mobilita per coinvolgere la cittadinanza nel progetto di recupero del teatro. In provincia, l'ultimo ricercato si consegna ai carabinieri. Sale a 11 il numero degli arrestati nell'operazione contro lo spaccio di droga a Secondigliano. Ancora cronaca, spacciatore non si ferma all'alta, arrestato dopo un inseguimento, un 22enne in manette, finisce in manette a Villa Vomano. Siamo in vibrata, in questioni di politica. Viviani lancia il simbolo per le elezioni. Eccolo qua, si chiamerà Alba Popolare, il contenitore per la sua candidatura a sindaco proprio di Alba Adriatica. A Tortoreto invece 5 stelle all'attacco su Tari e sulla differenziata. Sempre in vibrata, primi fondi per mettere a norma. A Tortoreto lo stadio Pierantozzi. Il Comune investe 100 mila euro per la struttura sportiva che è ancora chiusa. A Giulianova ha approvato il bando per l'emergenza a casa. L'amministrazione promette tempi brevi per l'assegnazione degli alloggi popolari. L'assessore canzanese fa sapere che saranno valutate soprattutto le posizioni di anziani e portatori di handicap. In basso controlli antidroga all'istituto Cerulli di Giulianova. I carabinieri trovano alcune dosi di hashish nei dintorni ma nessuno studente è stato segnalato. Per la politica PD e Mastromauro costretti a convivere per evitare l'arrivo del commissario sono le parole del coordinatore comunale di Forza Italia Ivan Costantini. Andiamo ad Atri perché è stato scelto il candidato sindaco dei Cinque Stelle. I rumors danno come favorito il dirigente Massimiliano Concetti. Già al lavoro il candidato sindaco per il centrodestra per Giorgio Ferretti sta lavorando per completare la lista dei candidati consiglieri. A Silvi nasce l'associazione per rilanciare il borgo antico. In basso siamo a Roseto, catari frangenti sui blocchi in cemento della ciclabile. L'annuncio del vice sindaco Tacchetti per impedire che ci siano nuovi incidenti. Qui siamo allo sport e allora ripartiamo dallo sport perché il Pescara gioca domani e non oggi come di consueto fa la B. Giocherà ad Avellino, Pescara attacco flop e Pifani sogna la svolta. Nel girone di ritorno nessuno ha segnato, meno del Delfino. Davvero un problema quello dell'attacco. Per il Pescara fuori casa la squadra non va in gol dal 20 gennaio, sono 316 i minuti di digiuno. Il capo cannoniere è Pettirari con 12 reti ma è a secco da oltre pensate. Tre mesi per l'attacco c'è un altro problema perché anche Cappelluzzo rischia il forfè. Cappelluzzo è il partito titolare della partita nel recupero infrasettimanale contro il Carpi. L'attaccante ha le prese con un affaticamento all'adduttore e purtroppo non ce la fa neanche mazzotta. In casa Irpina Gavazzi invece giocherà come leggiamo alle spalle di Ardemagni. Le questioni che riguardano il Pescara le troviamo anche sul messaggero perché Pescara è un waltzer delle punte. Il Delfino ha il peggiore attacco dell'abbina del 2018. Il mister ora rimotiva i quattro centravanti. Di Bunino l'ultimo gol su azione, proprio Bunino che vedete nella foto nella recente partita contro la Cremonese. Ad Avellino è confermato il 3-5-2 da scegliere proprio i due titolari del reparto avanzato. Ma l'Avellino non se la passa meglio. Chaos tra gli Irpini e Epifani in cerca di conferme. Mentre Valzania, come vedete, è in under 21. Il centrocampista non sarà a disposizione di Epifani nella gara con l'Empoli del 25 marzo. In basso andiamo in serie D perché ci sono le parole del tecnico dell'Aquila Battistini che ha fatto quadrato, la situazione la sapete delicata, molto delicata in casa l'Aquila, ha fatto quadrato intorno alla propria squadra. Dicendo l'Aquila da qui non ci si schioda. Massimo impegno fino alla fine della stagione. Leggiamo rapidamente da qui, noi da qui non ci si schioda. Tradisce l'inclinazione aretina. Si legge nell'attacco del pezzo Pierfrancesco Battistini che dunque rimane alla guida dell'Aquila nonostante le tantissime difficoltà. Per quanto riguarda la C, domani in campo anche il Teramo. E allora il Teramo cambia l'attacco. Bacio Terracino è out così come Ilaria. Emergenza per Palladini contro l'Albino Leffe. Ci potrebbe essere la possibile virata sul modulo 352. Assente anche Panico, ancora nella clinica Villa Stewart. Il recupero si fa più lungo. Per il Futsal Acqua e Sapone con Lima-Pescara decimato. Queste le notizie sportive sul Messaggero. Riprendiamo il centro perché andiamo alla crisi dell'Aquila. Battistini, noi andiamo avanti, aiutateci. La società sull'orlo del fallimento, il tecnico, riferisce di un incontro con Corrado Chiodi. Ha detto che vuole pagare una mensilità. Questo è quello che ha riportato Pierfrancesco Battistini. Calcio a 5 Serie A, l'Acqua e Sapone a Chieti. Il Pescara in Veneto. E in basso Fossa Cesia, già promosso nella Juniors d'Elite. Cambiamo pagina. Marini, un rosettano doc sulla strada degli Sharks. Domani a squadra di Di Paolo Antonio in trasferta Iesi. L'ala piccola dei marchigiani. Il rosetto è nel mio cuore. Ma ci serve una vittoria per i play-off. A centro pagina, Teramo vuole blindare il primo posto per la palla a mano. A 1 oggi bisogna battere Tavarnelle in vista del sorteggio della seconda fase. Chiudiamo con le questioni del Teramo sulla città. Bacio Ilaria a forte rischio. Teramo col 3-5-2. Attaccante centrocampista quasi certamente non disponibili con l'Albino Leffe. Che giocherà ovviamente a specchio con lo stesso modulo. e ha tante varianti. Massimiliano, Alvini con l'Albino Leffe. E come vedete in basso per la palla a mano la Lions Teramo si gioca in casa il primo posto nella pool play-out. Contro Tavarnelle per il basket. Giulianova il derby con Campi per rialzarsi. E poi le questioni che riguardano il Roseto Sharks serve un risultato positivo contro l'Aurora Iesi. Noi ci fermiamo qua. Queste sono le principali notizie dei quotidiani di casa nostra. Ovviamente mattino 6 torna domani puntuale. Torna lunedì puntuale alle ore 8. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona giornata. e una buona domenica. Grazie a tutti.